cari amici eccoci ad una nuova lezione di italiano per tutti questa è una lezione dedicata al al giornalismo al giornale ai giornali per essere precisi anzi andiamo a parlare di quotidiani italiani e cioè andiamo a parlare di quei giornali che escono quotidianamente in italia cioè escono tutti i giorni hanno una tiratura giornaliera abbiamo già visto per chi si ricorda che per chi ha seguito già il canale abbiamo già visto due diverse lezioni dedicate ai giornali me le sono segnate e una era la 124 era proprio intitolata i giornali e parlavamo dei giornali di come è composto un giornale di quali tipi di giornali ci sono in italia e abbiamo insomma dedicato la puntata della lezione a un po a le caratteristiche generali del del giornale come composto una seconda lezione era la 132 ed erano le professioni del giornalismo e qui invece abbiamo descritto quali sono le persone quali sono i ruoli che in qualche modo creano il giornale il direttore il redattore chi va a scrivere i giornalisti eccetera eccetera tutte le varie figure professionali che vanno a comporre a creare a realizzare e poi ovviamente a permetterci di qualche modo di leggere sia il cartaceo che la versione online di permetterci di leggere la la rivista questa invece una lezione prettamente dedicata ai giornali quotidiani italiani in realtà andiamo ad elencare quali sono quei quotidiani italiani cioè quali sono quei giornali che escono tutti i giorni in italia la mattina si trovano in edicola la versione diciamo la realizzazione la versione nuova della giornata e hanno una tiratura nazionale parliamo ovviamente di quei giornali che hanno una copertura nazionale che abbia ovviamente hanno una città di origine andremo a vedere tutte le varie città e l'anno di fondazione le varie caratteristiche di ogni quotidiano ma sono quelli che hanno una tiratura quindi una stampa una diffusione nazionale ci sono ovviamente tantissimi altri giornali locali quotidiani locali dedicati alle singole regioni alle singole città specifiche che non possiamo ovviamente menzionare perché sarebbero centinaia e molti di questi sarebbero magari anche ignoti ai più quindi ai più degli italiani immaginiamoci quelli che vogliono imparare qualcosa di più dell'italia allora questa lezione c'è stata richiesta da un paio di amici forse di più di un paio perché ogni tanto le richieste ovviamente si sovrappongono cerchiamo di andare ad analizzare quali sono tutti o la maggior parte dei quotidiani italiani con qualche con qualche nota qualche caratteristica allora questi sono ovviamente per chi è italiano se ne renderà conto però per chi magari conosce un po l'italia comunque saprà che questi sono i giornali più famosi in italia i quotidiani più famosi uno dei anzi il primo quotidiano chiamiamolo così che oggi è quotidiano molti nell'antichità dicevo ma molti nel passato non potevano essere quotidiani perché non c'era la capacità e la forza per poter stampare tutti i giorni un giornale e diffonderlo non c'erano ancora le tecnologie di oggi non c'erano ancora i mezzi di trasporto di oggi la possibilità di diffondere così rapidamente diciamo la notizia come oggi quindi alcuni di questi giornali non sono nati come quotidiani veri e propri sono nati come giornali magari settimanali e poi sono diventati quotidiani quindi abbiamo incluso tutti questi giornali ovviamente quelli che oggi sono dei quotidiani il primo ad essere stato fondato è alcuni e molti dei primi sono stati fondati nel 1800 e l'anno di fondazione della stampa è il 1867 è un giornale di torino con sede a torino fu fondata con il nome di gazzetta piemontese il suo moto era frangar non frectar che tradotto dal latino significa mi spezzerò ma non mi piegherò acquisì il nome attuale nel 1894 quindi nasce nel 67 e nel 1894 viene nominata viene chiamata dalla gazzetta piemontese viene chiamata stampa la stampa alcune firme storiche cioè personaggi storici famosi che hanno collaborato con il giornale o magari lavorato per un certo periodo in collaborazione col giornale stesso sono il famoso umberto eco il giornalista enzo biagi e carlo fruttero il corriere della sera altro giornale l'anno di fondazione è il 1876 la sede è milano il motto è la libertà delle idee acquistò molta popolarità nel 1878 quando alla morte del re vittorio emanuele secondo dedicò spazio a questo avvenimento molto più a lungo che gli altri quotidiani gli altri quotidiani avevano dato la notizia della morte del re vittorio emanuele secondo per un paio di giorni un paio di edizioni invece il corriere della sera ha perseverato per più giorni e per un periodo più lungo raccontando la vita la storia e i vari fatti accadimenti della del regno di vittorio emanuele secondo e quindi era aveva notato ovviamente la redazione che veniva letto molto per questo fatto per avere inciso molto sulla 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 morte sulla diffusione della morte di vittorio emanuele secondo quindi era aumentata la notorietà in quel periodo del corriere della sera diventando poi uno dei più letti e fu uno dei primi giornali a pubblicare le recensioni di film immaginate nel 1929 quali film potevano esserci veramente veramente eravamo quasi all'inizio della storia della cinematografia ma esattamente della cinematografia vista al cinema diciamo attualmente pensate che poi la sua diffusione è aumentata e attualmente è il quotidiano più letto in italia la diffusione è di circa 207 mila copie vediamo nell'ultima pagina la diffusione di tutti i giornali italiani qual è ci sono tutte le varie le varie cifre e questo è il giornale è il quotidiano più letto in italia con 207 mila copie che sono copie giornaliere ovviamente vengono stampate tutti i giorni la diffusione a differenza faccio una ma chiudo una parentesi così lo sapete la diffusione è in realtà quello che viene venduto cioè quello che non che viene stampato lo stampato e la tiratura e quello che viene diffuso in realtà è in sostanza quello che viene consegnato alle alle edicole venduto e non ritirato perché poi quello che viene ritirato in realtà è parte che ovviamente non viene più venduto alcune firme storiche sono italo calvino gabriele d'annunzio lo scrittore e eugenio montale lo scrittore poeta la nazione l'anno di fondazione il 1876 siamo ancora nel pieno 1800 la sede è firenze e può essere considerato il primo vero quotidiano nazionale perché fin dal momento della fondazione presentava le caratteristiche di un moderno quotidiano la pubblicazione giornaliera aveva subito nel 1876 pensate era riusciva a stampare giornalmente le copie e includeva nel suo giornale le notizie di varia attualità mentre magari altri erano più legati alla politica o magari a certi settori specifici era più generalista in questo caso il giornale della nazione tra le firme storiche abbiamo nicolò tomaseo gesù è carducci carlo rorenzetti più noto con il nome di carlo collodi che è lo scrittore del libro pinocchio il messaggero l'anno di fondazione è il 1878 è la sede a roma al momento della fondazione si occupava prevalentemente di notizie di cronaca della capitale cioè di roma nel 1888 fu il primo giornale in italia ad adottare il sistema di stampa in stereotipia cioè in realtà tutti i giornali fino a quel periodo e tutti i giornali che stampavano in quegli anni avevano un metodo di stampa che era ancora quello diciamo storico un po arcaico cioè mettevano insieme i vari caratteri e poi stampavano e poi smontavano diciamo la pagina in questo caso la la pagina dal messaggero veniva composta con una forma unica veniva fatta una lastra unica e quindi questa lastra veniva tenuta in modo che se venivano venissero fossero state richieste ulteriori copie o ristampe poteva essere ristampato quindi tutte le lastre originali venivano tenute e questa è la tecnica di stampa in stereotipia significa che si può ripetere continuamente la stampa delle pagine senza smontarla ecco tra le firme storiche abbiamo alberto moravia benedetto croce e giampaolo panza il resto del carlino è dell'anno di fondazione del resto del carlino e del 1885 la sede è bologna e deve il nome ascoltate perché è simpatica questa cosa deve il nome alla moneta da dieci centesimi di lire che all'epoca veniva chiamata carlino allora il dieci centesimi veniva chiamato carlino normalmente i giornali all'incirca in quel periodo costavano circa cinque centesimi di lire e in questo caso il resto del carlino costava solo due centesimi di lire il resto perché perché il valore era due centesimi era il valore del resto per chi comprava un sigaro quindi i signori di quel tempo uscivano alla mattina e normalmente la mattina si compravano un sigaro e fumavano un sigaro il costava 8 centesimi e avevano di resto due centesimi col quale si potevano comprare il giornale che era il resto del carlino infatti il resto e che costava solo due centesimi quindi avevano uno speso in totale dieci centesimi di lire alla mattina dare il resto del carlino era però anche un modo di dire in uso a quei tempi con il significato di regolare i conti ti do il resto del carlino no ti do a quei due centesimi per farti capire e quindi diciamo che un po il carattere del giornale era quello di dire le cose in qualche modo in modo diretto in modo in modo senza come si dice peli sulla lingua cioè senza diciamo doppi sensi tra le firme storiche abbiamo aurelio saffi giovanni pascoli il poeta e luigi e inaudi lo scrittore il mattino il mattino è un giornale del 1800 192 di napoli è il primo quotidiano fondato e diretto da una donna cioè matilde serrao insieme a a edoardo scarfoglio con l'intento di diffondere in tutta italia la voce di napoli raggiunse la massima popolarità negli anni 80 80 ovviamente la degli anni 80 del 1980 perché stiamo parlando poi del 1900 in quanto è fondato è stato fondato nel 1892 è diventato molto popolare nel 1980 quando la squadra del napoli vinse per due volte il campionato nazionale di calcio le firme storiche sono ferdinando russo gabriele d'annunzio lo scrittore giuseppe giusue carducci lo scrittore quindi firme ovviamente molto molto importanti nella storia della del giornalismo della letteratura italiana il tempo ecco qui che facciamo un salto perché ovviamente si sa no fine ottocento le prime i primi problemi in europa le guerre 15 18 40 45 e quindi è un periodo storico un po diciamo buio per quel che riguarda l'informazione e i primi giornali che poi diciamo vengono fondati successivamente questo lo fanno dopo nel dopoguerra e quindi nel 1944 45 iniziò a uscire in evico nel 1945 quando si era conclusa la seconda guerra mondiale i principali quotidiani erano stati sospesi mentre si verificava la loro possibile collaborazione con il passato regime molti quotidiani durante il regime fascista erano costretti a in qualche modo a dare le notizie rispettando quello che erano le i diktat del regime fascista stesso altrimenti venivano chiusi quindi in qualche modo nel dopoguerra si è fatto un'analisi di quelli che erano i giornali che erano stati di partito chiamiamole così o quelli che in realtà erano stati diciamo più moderati il tempo era stato fondato nel subito nel dopoguerra e era appena fondato e quindi poteva offrire il lavoro a molti giornalisti che erano rimasti senza impiego perché ovviamente gli altri giornali erano stati sospesi momentaneamente non producevano e acquisì fin da subito un orientamento moderato conservatore l'avvenire l'avvenire è nato nel 1968 quindi saltiamo altri vent'anni abbiamo la sede a milano l'avvenire nasce con sede a milano fu fondato come quotidiano di ispirazione cattolica nacque infatti dalla fusione di due quotidiani cattolici locali faccio notare che l'avvenire è un giornale italiano pur essendo diciamo di tendenza cattolica c'è un altro giornale abbastanza famoso che è l'osservatore romano che è un giornale cattolico è un quotidiano però non è non è italiano diciamo è un quotidiano che ha sede nel vaticano che ha diciamo il quotidiano della santa sede è di ispirazione cattolica non l'abbiamo inserito tra questi perché pur essendo con un testo e con diciamo scritto in italiano non è in realtà un quotidiano italiano anche se è quello diciamo ufficiale della il quotidiano ufficiale della santa sede quindi del vaticano l'avvenire è un giornale invece italiano con sede a milano nacque dalla fusione di questi due giornali cattolici lo scopo era quello di dare vita a uno strumento culturale di informazione per tutti i cattolici che risultasse però di interesse anche per i non credenti quindi una diffusione più ampia nel 2000 dal 2009 il motto del giornale è la consapevolezza cambia il mondo e poi andiamo al 1969 con il manifesto il manifesto a sede a roma nasce come rivista mensile di informazione politica con orientamento di sinistra anche se attualmente non appartiene a colpa ad alcun partito non abbiamo detto o magari in qualche caso succederà per i prossimi giornali ma alcuni di questi giornali sono diciamo giornali di partito cioè giornali di partito politico espressamente quindi fondati per un per uno scopo ben preciso il manifesto era stato con un preciso orientamento politico di sinistra aveva fatto in qualche modo anche partecipato in qualche modo anche con un partito alle elezioni oggi non appartiene a nessun partito diventa un quotidiano nel 71 perché nasce nel 1969 probabilmente come settimanale e la pubblicazione del giornale è gestita da una società cooperativa costituita da giornalisti e da tecnici di stampa quindi non ha in realtà un capo un padrone e a una diciamo un un organismo cooperativo che che gestisce la la produzione e la stampa tutti questi giornalisti e tecnici di stampa ricevono lo stesso stipendio il giornale è un giornale è un quotidiano di milano con sede a milano e l'anno di fondazione è il 1974 è un quotidiano di orientamento conservatore liberale fin dai primi anni della pubblicazione presentava le caratteristiche distintive rispetto ad altri quotidiani articolo in prima pagina senza rimandi o continuazioni nelle pagine seguenti la terza pagina fissa dedicata alla cultura una pagina interamente dedicata alle lettere inviate dai lettori al direttore che era indro montanelli uno dei giornalisti e ovviamente direttori di quotidiano tra i più famosi e nel quale ovviamente indro montanelli andava poi a rispondere quindi ti di volta in volta c'erano le le domande successive e le sue risposte nella 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 pagina interamente dedicata dedicata al direttore la repubblica l'anno di fondazione il 1976 la sede a roma è un quotidiano di orientamento favorevole alla sinistra riformista e adottò fin dall'inizio un formato diverso dagli altri giornali il berlinese che è più piccolo poi molti altri hanno acquisito negli anni successivi nei decenni successivi la stessa forma è più piccolo come dimensione più maneggiabile con sei colonne invece di nove scelsi inoltre di spostare l'area dedicata alla cultura dalla terza pagina alle due centrali del giornale oggi molti giornali hanno le due pagine centrali dedicate alla cultura magari anche più di due anche a livello grafico fu scelto un giornale un formato innovativo a blocchi di testo e immagini insieme le firme celebri sono corrado augias roberto saviano e illustratore giorgio forattini che è un vignettista satirico che ha fatto moltissima moltissima massima storia in italia il foglio è un giornale del 1996 ha la sede a milano e è un quotidiano di orientamento vicino al centrodestra come come schieramento politico prese il nome dal formato editoriale un unico foglio in formato lenzuolo quindi molto grande come i nuovi giornali come era la repubblica contenente un inserto di 24 pagine nacque come giornale di approfondimento delle notizie quotidiane scelse inoltre di usare vignette al posto di fotografie fu uno dei primi quotidiani in italia ad essere interamente disponibile online uno dei primi poi oggi lo sono ovviamente tutti però è stato uno dei primi parliamo del 96 era ancora un periodo in cui non era facile diciamo avere accesso a internet per tutti e comunque oggi come si sa c'è una diffusione forse più online che quella che quella sul cartaceo libero libero è un quotidiano di fondazione del 2000 qui parliamo siamo già nel 2000 siamo con sede a milano è un quotidiano di orientamento favorevole di al centro il centrodestra noto per utilizzare un linguaggio molto diretto e spesso irriverente quindi quello che deve dire lo dice senza senza troppi problemi è abbastanza criticato come giornale sempre sulle sulle pagine diciamo degli alle le sue notizie sono sulle pagine degli altri giornali e notoriamente diffuse anche in televisione per quello che che raccontano il fatto quotidiano è un anno è un quotidiano di fondazione del 2009 con sede a roma è un quotidiano ispirato al rispetto della costituzione della repubblica l'editore dichiarò fin dall'inizio di non volersi avvalere dei finanziamenti pubblici l'editoria questo si sa o non si sa in italia c'è una legge che permette a molti di questi quotidiani di avvalersi di fondi pubblici quindi praticamente lo stato in qualche modo finanzia la diffusione la stampa e la produzione di molti di questi quotidiani il fatto quotidiano è uno tra forse l'unico che non accetta e non si avvale non ha mai diciamo fatto accesso a quello che era il finanziamento pubblico all'editoria che viene concesso alla maggior parte non solo dei quotidiani italiani anche molti altri la verità è un quotidiano di fondazione del 2016 diciamo che uno dei più recenti di diffusione nazionale è stato fondato a milano è il più giovane di quotidiani italiani infatti è di orientamento favorevole al centro destra vi faccio vedere questa foto che vedete qua sopra che sembrano qualsiasi foto come l'abbiamo passate ne abbiamo in tutte le altre le altre slide in realtà questo qui questo questo gattino appoggiato sul sul giornale è diventato molto famoso nei mesi diciamo a venire e si chiama nando questo gatto praticamente era tipico era tipico dico era tipico perché poverino oggi non c'è più tra noi ma era tipico andare in un'edicola a settimo fiorentino in provincia di firenze ed appoggiarsi e a diciamo ad aspettare tutte le persone che andavano a comprare i giornali in quest'edicola e li aspettava tutti i giorni e non era di nessuno era stato abbandonato e gli edicolanti praticamente l'hanno in qualche modo accolto nell'edicola non hanno in qualche modo adottato è diventato praticamente anche su sulle notizie sulle news sui giornali esteri è diventato molto famoso perché molti andavano nell'edicola per comprare il giornale per accarezzare per salutare nando e se andate a vedere su youtube su internet ci sono moltissime notizie che raccontano di lui è molto simpatico un gatto molto molto affettuoso purtroppo è stato investito da un da un'auto da un motorino qualche mese fa e quindi purtroppo ci ha lasciato ma è una notizia abbastanza importante non come tutte le altre notizie che in questo caso diciamo mette in evidenza un amico che 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 alle volte più importanti di tante altre notizie che sono poi sempre le stesse oltre ai quotidiani quelli diciamo tradizionali che raccontano i fatti di tutti i giorni quindi notizie di cronaca cronaca rosa politica esteri affari tecnologia cultura eccetera eccetera abbiamo alcuni quotidiani specifici alcuni quotidiani che sono legati a argomenti specifici ad esempio abbiamo i quotidiani di economia e finanza il sole 24 ore viene fondato nel 1965 la sede a milano e nacque dalla fusione di due giornali concorrenti il sole e 24 ore si occupa di economia di politica di nuove normative nel settore economico dell'andamento dei mercati finanziari è diciamo il re in qualche modo chiamiamolo così dei quotidiani italiani in campo di economia e finanza e quando c'è da fare diciamo qualche speculazione finanziaria oppure quando c'è da verificare qualche notizia di borsa questi personaggi diciamo che hanno soldi in banca diciamo così hanno di solito sempre il sole 24 ore sotto il braccio perché da notizie nuove fresche di giornata su quali sono possono essere i possibili movimenti spostamenti di denaro che si possono fare sui mercati e non solo ovviamente italia oggi è un giornale anche questo di economia di finanza l'anno di fondazione l'86 è più recente sempre di milano vedete che ma la maggior parte poi sono milano firenze napoli torino roma inizialmente contava su un accordo con due quotidiani esteri il wall street journal americano e l'independent inglese in base al quale poteva utilizzare i loro articoli e si occupa di economia e finanza politica e norme giuridiche poi abbiamo quello che in realtà è più il passatempo degli italiani cioè leggere il giornale per vedere chi ha vinto la partita chi ha diciamo come funziona come va con la classifica per per lo scudetto eccetera eccetera quindi questi sono i giornali più anche se non solo più da bar diciamo proprio quello che bar all'italiana i quotidiani sportivi abbiamo la gazzetta dello sport che è stata fondata nel 1896 con sede a milano e all'inizio si occupava solo di ciclismo che era lo sport all'epoca più seguito nell'aprile del 1896 dedicò ampio spazio alla descrizione della cerimonia di inaugurazione delle prime olimpiadi moderne ovviamente c'erano le vecchie antiche olimpiadi greche poi iniziato una nuova fase diciamo pur essendo nel 1896 e la gazzetta dello sport diciamo è diventata famosa e ha ampiato la sua diffusione proprio perché era il giornale che ha parlato con diciamo doveroso dettaglio di quell'evento di inaugurazione delle nuove olimpiadi nel 1898 adotto per le pagine il colore rosa se lo vedete qua sopra a gazzetta dello sport è in realtà è quello quel giornale sportivo di colore rosa e ancora oggi è il simbolo del giornale il suo slogan è infatti tutto rosa della vita forse prima era verde da quello che ricordo ma poi ovviamente nel 1898 non c'ero ma è diventato diventato rosa il corriere dello sport all'anno di fondazione del 1924 quindi è più recente ma non molto è di roma e fu fondato in realtà a bologna da un gruppo di appassionati di sport del consiglio di amministrazione faceva parte anche il pilota enzo ferrari abbiamo fatto una lezione su enzo ferrari andatevela a rivedere vi metto il link qui e nel 1929 la sede fu spostata a roma in quegli anni riuscì a fare concorrenza alla gazzetta ovviamente la gazzetta dello sport occupandosi diffusamente di sport considerati minori tra cui pugilato quindi in realtà portava avanti la notizia di altri sport e quindi faceva in qualche modo concorrenza a quella che era il giornale diciamo di sport italiano per eccellenza che era ovviamente la gazzetta dello sport ultimo ma non ultimo tutto sport l'anno di fondazione al 45 subito il primo dopoguerra la sede a torino è un quotidiano dedicato prevalentemente al calcio con particolare attenzione alle due squadre torinesi la juventus e il torino e in parte anche alle due squadre milanesi il milan e l'inter si occupa anche delle serie di calcio secondarie abbastanza famoso e abbastanza diffuso un quotidiano che non abbiamo inserito in questo elenco ma che voglio semplicemente solo citare perché non è più un quotidiano diciamo non è più di tiratura è l'unità che è un quotidiano diciamo di tendenza politica di sinistra che ha avuto diverse vicissitudini nella sua storia è fallito parecchie volte pur ricevendo dei finanziamenti dallo stato è stato ricostituito alcune volte non conosco bene la storia però in questo momento storico 2019 ne viene stampata solo una copia all'anno per mantenere il nome da quello che so è però non ha una tiratura frequente quotidiana quindi non è un quotidiano in realtà è un giornale di partito che è idealmente rimasto solo solo nella nella storia diciamo dei quotidiani ma non è non è attualmente attualmente in diffusione questo elenco che vedete qua sotto non ve lo sto a leggere tutto ma è la diffusione cartacea del del 2018 dove abbiamo visto già prima che il più il giornale quotidiano più diffuso in italia è il corriere della sera che a 207 mila stampe al giorno sbaglio dire stampe perché in realtà la stampa e la tiratura la diffusione quello che viene effettivamente venduto quindi potrebbe esserci un altro giornale che stampa molto di più ma poi poi non vende quello che viene venduto sono all'incirca 207 mila copie al giorno e poi vedete che c'è tutto l'elenco della diffusione di tutti gli altri faccio notare che questa è la diffusione cartacea se dovessimo ad esempio valutare la diffusione cartacea più la diffusione digitale quella online ad esempio il sole 24 ore per quello che ne so è uno dei più letti online perché ovviamente quelli che lavorano in borsa in finanza sono molto più collegati degli altri quindi un giornale che è molto più legato a quelle persone che sono online che devono diciamo in qualche modo gestire i mercati azionari eccetera eccetera quindi è molto più probabile che venga letto da persone che hanno l'abbonamento l'abbonamento online e poi vi dicendo andatevi a cercare i dati comunque comunque cambia leggermente l'andamento della della diffusione se consideriamo anche la diffusione online bene amici una lezione un po lunga descrittiva abbiamo cercato di parlare dell'italia e dei suoi giornali un breve elenco ce ne sarebbero molti bisognerebbe passare forse ore non sarei neanche io la persona adatta per spiegarvi questo però una breve descrizione su quali sono i quotidiani in italia quali sono stati come sono nati e qual è stata la loro diffusione spero che la lezione vi sia piaciuta come sempre vi chiedo un seguimi online sul canale e itapertutti.blogspot.com e tutti gli altri social andate a cercarci perché siamo sempre online come sempre grazie per il vostro contributo per i vostri commenti continui cerchiamo di rispondere alle vostre domande cerchiamo di esaudire i vostri desideri e le vostre richieste in qualche modo abbiamo un grande elenco di articoli anzi di lezioni sono rimasto agli articoli di giornale ma in realtà vi è un grande elenco di lezioni ancora da svolgere ancora da pubblicare ci vediamo alla prossima lezione di italiano per tutti grazie ciao 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 ciao